Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio di essere venuti in una giornata di sole stupenda, per parlare di tasse è un po' arco. Volevo presentarvi intanto il professor Nicola Rossi, che è docente a Tor Vergata, giurista, è stato docente anche a Venezia, all'Università di Ca' Foscari, dove peraltro ho avuto il piacere di conoscerlo, e è stato parlamentare per due mandati alla Camera, uno eletto nelle liste del centro-sinistra, uno del PD se non sbaglio, e senatore, nel 2008, nella lista del PD, senatore, però nel 2011 ha presentato la lettera di dimissioni, che il Senato ovviamente ha respinto. E questo libro che oggi presentiamo nasce appunto, credo di aver intuito, da quella lettera di dimissioni, da quello scontro, che fu, se vi ricordate, sulla riforma dell'articolo 81 della Costituzione, quello che, con uno svolazzo lessicale, è passato da pareggio di bilancio a equilibrio di bilancio. E proprio in questo scontro così dialettico ci sono le dimissioni del professor Rossi. Io partirei proprio da questo, cercando di capire perché questa posizione e questa rottura, con un certo tipo di sinistra, non solo, con un certo tipo di mentalità politica, che è quella di fare le spese senza coprirle, cosa che vediamo comunemente anche in questo nuovo esecutivo. Però prima volevo dirvi una cosa, perché quando Pellicani mi ha proposto di fare, di moderare questo dibattito, di moderare, di intervistare il professore, io avevo un po' di perplessità sulla flag tax, lo dico chiaramente, proprio era un po' una sorta di orticaria ideologica, chiamiamola. L'idea che la flag tax potesse essere in contraddizione, magari in contrasto, con l'articolo 53 della Costituzione che dice che ognuno dovrebbe pagare in base al proprio reddito in modo progressivo. Mi sono sempre detto, ma se io guadagno 1.000 euro al mese, ne pago 2 di tasse e vivo con 750. Se guadagno 10.000, ne pago 2.500 di tasse e vivo con 7.500, non è la stessa cosa vivere con 750 o con 7.500. L'altro punto di perplessità è che, siccome l'Italia è un paese alla canna del gas, non direi che ce lo nascondiamo, in un'altra situazione avrebbe già portato i bilanci in tribunale, forse l'ha già anche fatto, perché se guardiamo la sequenza dei presidenti del Consiglio che sono stati ex governatori della Banca Centrale, ex commissari europei, abbiamo un elenco lungo di più che politici, gestori, con risultati peraltro piuttosto scarsi, qualcuno le tasse le deve pagare, qualcuno il buco lo deve coprire, lo copriamo noi o lo coprono i nostri figli, quelli che restano, visto che 150.000 all'anno se ne vanno fuori dell'Italia. E quindi pensavo che, sì, flat tax è una bella cosa, però quel 43% di pressione fiscale media consente o fa in modo che questa belva, che è la spesa pubblica, venga comunque tamponata. Devo dire che ho letto il libro e ho capito che non avevo capito nulla, per cui sono molto contento di dire questo, perché adesso qua c'è il professore che ce lo spiegherà meglio, perché questa è secondo me una piccola bussola che può farci identificare o trovare un sentiero di crescita per questo paese che sono vent'anni che non cresce più, anzi decresce, che ha una curva demografica spaventosa perché stiamo diventando tutti vecchi e che se noi guardiamo proprio le serie storiche ha una produttività media del paese che è in continuo calo. Per cui la prima domanda che voglio fare, professore, cominciamo dall'inizio. Perché questo equilibrio di bilancio e pareggio di bilancio l'ha fatto così arrabbiare? Innanzitutto grazie, grazie a voi per essere presenti e grazie al Festival per l'invito. Allora, insomma si può essere a favore o contro il pareggio di bilancio, questo francamente mi interessa poco in questo momento. Il libro comincia con questa vicenda della riforma dell'articolo 81 che se ricordate è del 2012 perché secondo me è emblematica del rapporto che corre spesso e volentieri in Italia fra la politica e i cittadini. Nel senso che c'è una cosa che io in particolare non ammetto dalla politica e cioè che ci prenda in giro. Questo è proprio ciò che mi irrita più di tutto. Possono sbagliare, possono fare bene, possono essere più preparati, meno preparati, questo capita a tutti diciamo. Ma prendere in giro è una cosa che veramente mi irrita perché poi pagando le tasse uno almeno questo rispetto lo vorrebbe. e il caso dell'articolo 81 è un esempio, è proprio un monumento a cavallo alla presa in giro. Ora cercherò di spiegarvi anche perché. Che io sappia, che io ricordi negli ultimi dal 2013 in poi tutti i presidenti di consiglio, ministri che si sono succeduti hanno tutti detto con assoluta chiarezza che l'articolo 81 va rivisto e va eliminato il pareggio di bilancio. Ce l'ha imposto l'Unione Europea, basta con questa storia, non lo vogliamo più vedere. Benissimo. Da quando l'articolo 81 è stato riformato, cioè nel 2012, quante volte lo abbiamo applicato? C'è qualcuno che mi sa dire? Ve lo dico io. Mai. Mai. Perché? Perché quando lo abbiamo scritto nel 2012, chi lo ha scritto con molta attenzione, con molta, come dire, sofisticazione, lo ha scritto in maniera tale che se il Parlamento vuole non si applica. Capisco che è difficile, diciamo, crederci, ma basta leggersi il nuovo articolo 81 per capire che è una sublime presa in giro proprio. E' come dire, io sto facendo una cosa che è molto complicata, che mi richiede l'Unione Europea, eccetera, eccetera, ma la faccio in maniera tale che mi basta nulla per non applicarla mai. E infatti non è applicata mai. Nell'articolo 81 nuovo, perché quello vecchio l'aveva scritto in Adelio, l'aveva scritto pure bene, per essere sinceri, ma in quello nuovo si dice chiaramente che se ci sono circostanze eccezionali, l'articolo 81 si può non applicare. Per circostanze eccezionali, visto che basta la maggioranza in Parlamento per stabilire che ci sono circostanze eccezionali, vale qualunque cosa. Vale il fatto che c'è una crisi, vale il fatto però che c'è stato un temporalone estivo molto forte, vale qualunque cosa. Leggetevi i resoconti parlamentari e tutti gli anni dal 2012 ad oggi sono stati tutti invariabilmente caratterizzati da circostanze eccezionali. Che le cose andassero bene, che le cose andassero bene, comunque diciamo. Ecco, questo è un bel esempio, siccome questa storia ritorna, perché io ho sentito non più tardi della scorsa settimana uno dei due vicepresidenti del Consiglio affermare in maniera ferrea che bisogna riformare l'articolo 81 ed eliminare il pareggio di bilancio, bisogna che qualcuno gli spieghi che non c'è problema, che da qua a 15 giorni questo Parlamento, il suo Parlamento, voterà l'esistenza di circostanze eccezionali e disapplicherà l'articolo 81. Non c'è problema, non si scalmanino. Quello che c'è oggi in Costituzione e che è stato fatto nel 2012 è dal punto di vista della classe politica perfetto. Perché c'è un nemico da additare, il pareggio di bilancio, l'Europa eccetera. Ma alla fine è una tigre di carta perché non serve a niente. Ecco, io come cittadino questa cosa qui la trovo piuttosto insultante, se posso essere un po' franco. Senta, lei parla di far dimagrire lo Stato e rendere il sistema fiscale meno vessatorio, meno predatorio, diciamo, o usa anche una parola, meno persecutorio se vogliamo. Ci spieghi questo modello di flat tax? Perché il 25%, che peraltro non è neanche poco, poi vedremo, può, diciamo, essere sia si coniugarsi con la progressività, sia consentire di ridurre la spesa pubblica e affrontare il nostro problema annoso che è quello del debito. Allora, lasciatemi dire prima una cosa. Di solito quando si parla di flat tax, una delle prime questioni che viene posta da qualunque, diciamo, osservatore, ma scusa, ma ebbe pazienza, ma questa storia ora è applicata, non so, in Estonia, in Georgia, sì, in Russia, ma insomma, lo sappiamo la Russia, qualche problema, in Bulgaria. Che cosa ci viene a proporre per noi che siamo una grande potenza industriale? Una cosa di questo genere? Allora, questo argomento qui è proprio, se mi consentite, diciamo, proprio puerile. Perché, come dire, mi ricorda molto la fine dell'Ottocento, no? Quando, come dire, c'era la difficoltà evidente per alcuni a passare dalla fotografia al cinema. Allora, qui il problema è proprio che è il cinema che ci interessa, non la fotografia. Perché? Perché la questione del flat tax non è una cosa, un modello che viene, che dobbiamo considerare come possibile. È un processo. Sono 30 anni che le aliquote fiscali dell'imposta personale che tutti paghiamo si riducono, sia come numero, sia come ammontare. Da 30 anni succede questo. Accade, anzi, c'è stata una lieve interruzione, diciamo, negli anni della crisi e poi il processo è ripartito. È ripartito negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, anche in altri paesi. E sono 30 anni che l'imposta personale tende ad avere sempre meno scaglioni e sempre aliquote più ridotte. Naturalmente l'esito di questo processo è la flat tax. Ma dire che si vuole la flat tax non significa che si vuole da subito e immediatamente l'esito finale. Significa che questo processo è ormai scritto nella storia dei sistemi fiscali degli ultimi 30 anni. E non c'è verso, diciamo, che ci liberiamo da questa tendenza. Sapete perché? Non solo perché è una tendenza che vale per tutto il mondo, ma soprattutto perché l'Italia ha aderito a questa tendenza con entusiasmo. L'Italia è uno dei paesi più avanti dal punto di vista dell'applicazione della flat tax. So, anche qua qualcuno si metterà a sorridere, ma diciamo, ma seguitemi un attimo. Tutte le imposte su tutti i redditi, diversi dai redditi da lavoro e da pensione, sono flat. In Italia è flat tutto. È flat la tassazione del reddito di imprese, è flat. Si paga il 24, sia che uno si chiami, non so, luxottica, sia che uno si chiami pinco pallino, SNC. Va bene? È lo stesso. È flat, diciamo, la tassazione sui redditi dai mobili. Si paga più o meno il 21. È flat la tassazione sui redditi di attività finanziarie. Si paga il 12,5 se uno ha 1000 euro di titoli pubblici o se uno ha un miliardo di titoli pubblici. È flat la tassazione sulle attività finanziarie, per esempio, diciamo, sulle altre attività finanziarie. Se uno ha delle obbligazioni, paga il 26, sia che ne ha 2, sia che ne ha 2 milioni. Tutto è flat, tranne i redditi da pensione e da lavoro. Quindi l'Italia si è già portata molto avanti, ma molto avanti. E quello che è ancora più intollerabile, diciamo, è che secondo me pochi osservano, soprattutto quelli che quando si parla di flat tax immediatamente hanno, diciamo, un rigurgito, diciamo, ugualitario, no? Quello che poco osservano è che tutte queste aliquote flat che vengono applicate a tutti i redditi... Ma che cosa vi devo dire? Ma lo sapete che, diciamo, i manager dei fondi di investimento tendono ad avere alla fine dell'anno, diciamo, se le cose vanno ragionevolmente bene e a loro spesso vanno molto bene, tendono ad avere redditi significativi, va bene? Sui quali pagano il 26%. Stiamo parlando di redditi da milioni. No, fatemi fare un esempio ancora più bello. I proprietari di NTV, che non più tardi di 4 mesi fa, 5 mesi fa, hanno venduto la società, diciamo, che gestisce i treni Italo, ottenendo plusvalenze nell'ordine a volte delle decine di milioni, pagheranno con ogni probabilità, se tutto va bene, credo, il 26%. Ora, un lavoratore dipendente, diciamo, paga il 26% se poco poco supera la fascia più bassa. Se è un professionista o altro, paga fino al 43%. Il sistema attuale, che è un sistema in cui, appunto, l'introduzione della flat tax è già molto avanti in Italia, ma si è fermata lì dove conveniva fermarsi. Ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai lavoratori autonomi, no grazie. Ora, mi spiegate qual è l'equità di una cosa di questo genere? L'equità non si spiega, ma la capacità di incassare è sicura. Contando questi, sono dati così spannometrici dell'Agenzia delle Entrate. In Italia il 45% non paga niente, perché ha un reddito che è inferiore, cioè un'imposizione di imposta fiscale che è inferiore alle detrazioni. Il 10% paga più o meno quanto è la spesa sanitaria pro capite, che è circa 1.680-1.700 euro. Il resto paga per tutti. Cioè, c'è una logica in tutto ciò. Come no? La logica è che mi servono i soldi e quindi li prendo. La logica del legislatore tributario è sempre questa, diciamo, ditemi dove sono i soldi e li vado a prendere. Questo va bene da quando esistono le gabelle, è la stessa identica cosa. Quindi è comprensibile che il legislatore tributario faccia questo. Però, per favore, mi si dica questo. Non mi si dica che il sistema attuale rispecchia l'articolo 53, è il massimo dell'equità, è il meglio che un paese civile possa desiderare. Ma gliel'hanno detto Prodi e Visco? Lo so, non ci posso fare niente. Io ho l'impressione che ci sia proprio un problema di orologio a sinistra. Forse non l'hanno niente. Arrivano sempre in ritardo. Sempre regolarmente in ritardo. Non so perché. Però, notate bene. Siccome poi però alla fine l'inquità del sistema è percepita, che cosa succede? Succede che in realtà si avverte la insostenibilità di dire, per esempio, ad un professionista o a un dirigente o a un lavoratore dipendente che guadagni bene, si avverte la insostenibilità di dirgli tu paghi il 43 e appunto i proprietari di NTV pagano il 26 pur avendo guadagnato milioni di euro con la loro vendita. Va bene? Dal momento che si avverte questo, che succede? succede che si va dal parlamentare di turno, onorevole o senatore che sia, e gli si dice, senti, guarda, bisogna trovare una maniera, io 43 non ci riesco proprio a pagarlo, diciamo, è proprio tanto e soprattutto gli altri parlano meno, no? Quindi nasce la foresta dei trattamenti di favore, delle esenzioni, delle deduzioni, delle detrazioni, chiamatele come vi pare, sono circa 700 in questo paese, che servono esattamente proprio a ridurre una progressività trasformandola in una progressività di facciata. fate l'elenco di questi trattamenti di favore e scoprirete che alcuni sono naturalmente legati solo ai contribuenti più abbienti, proprio per evitare che per loro, diciamo, il problema si venga avvertito in maniera così evidente, no? Io dubito seriamente che nelle periferie di Roma o di Milano sia stato usato il bonus giardini, no? L'abbiamo fatto due anni fa, mentre ho la netta sensazione, guardandomi intorno, che probabilmente qui qualche terrazzo abbia giustamente su fruito del bonus giardini. Che vi devo dire? Non mi ricordo, diciamo, a Tor Pignatara nella periferia di Roma vedere qualche persona poco abbiente portare l'alano dal veterinario, no? Perché godrebbe della detrazione per il veterinario, mentre probabilmente, diciamo, qualche contribuente più abbiente l'alano ce lo porta dal veterinario. Ecco, questo è l'elenco di tutte queste cose qui, è veramente infinito ed è della maniera sgradevole, secondo me, perché è ad persona, ma è fatta per pochi, è fatta attraverso, diciamo, la pressione notturna all'interno delle commissioni parlamentari di questa o di quella lobby per ottenere sgravi che poi alla fine, diciamo, facciano sì che anche quella parvenza di progressività che si ritrova nell'attuale IRPEF venga ammorbidita. Spieghi bene come funziona il meccanismo, perché è vero da un lato che si pagano il 25% di imposte, però dall'altro, e questo garantisce la progressività, c'è tutta una serie di no tax area che varia a seconda dell'individuo, della famiglia, e poi ci sono le controindicazioni, cioè i servizi, la sanità, l'università e quant'altro, uno se li paga o in proporzione a quello che guadagna, oppure se li copre con un'assicurazione. Allora, innanzitutto, io non vorrei che tutti corressero a stappare il champagne, perché non si paga il 25%, purtroppo non si paga ancora il 25%, non è ancora così, e temo che aspetteremo ancora un po'. Se fosse così saremo tutti lieti, non lo so esattamente quanto ci metteremo, ma insomma, supponiamo per un attimo che ci fosse una sola aliquota, come fa a diventare progressivo un sistema con una sola aliquota? In maniera molto semplice, diciamo, c'è una quota che è esente per tutti nello stesso ammontare, ma in valore assoluto, quindi, non so, 7500 euro, fatemi fare un esempio qualunque, per una persona single, perché questa quota poi deve cambiare a seconda se ci sono figli a carico, a seconda delle condizioni familiari e così via. Ma è chiaro che se la quota è assoluta, fate un esempio a mente, insomma, se una persona guadagna 20.000 euro l'anno e la quota è 7.000 euro, pagherà sui 13.000 euro il 25%, ma se una persona guadagna 200.000 euro l'anno, pagherà il 25% sui 200.000 meno sempre 7.500, quindi pagherà certamente di più, proporzionalmente, no? Quindi il sistema è certamente progressivo e certamente rispecchia l'articolo 53, questa storia dell'articolo 53 è veramente, diciamo, una burletta a proposito della flat tax, perché si può costruire facilmente una flat tax che sia progressiva da questo punto di vista, non è una cosa complicata. Il punto che veniva citato è invece quello secondo me che è più rilevante. Allora, quella tendenza di cui vi ho parlato, cioè da 30 anni alla riduzione degli scaglioni e delle aliquote, è una cosa che continuerà e continuerà per un motivo molto semplice, perché sempre più, come dire, quelli che i tecnici chiamano le basi imponibili, cioè i soldi da tassare, tenderanno ad evaporare, già ora tendono ad evaporare. Tutta la discussione sulle grandi società che lavorano sul web è questa, non si riesce a capire dove stanno i soldi da tassare. Mentre appunto una volta la gabella bisognava passare dal Dazio e quindi si pagava il Dazio perché fisicamente di là bisognava passare, la storia, diciamo, dei sistemi fiscali è una continua rincorsa da parte del legislatore fiscale nei confronti del contribuente che ogni volta si inventa una modalità, diciamo, per saltare la gabella, questo è evidente, no? Ora, questa cosa qui sarà fortissima negli anni a venire, quindi pensare di poter mantenere i sistemi fiscali così come li abbiamo costruiti nel 1971 è veramente illusorio, è proprio una favola che ogni tanto ci raccontiamo, diciamo, ma è veramente solo una favola, al contrario, oggi dovremo fare esattamente l'operazione del 1971. Allora si fece una riforma molto coraggiosa, non compiuta ma coraggiosa lo stesso, di innovazione nel sistema fiscale, allora si introdusse, si posero le basi per la ritenuta la fonte, si posero le basi per una dichiarazione che comprendesse tutti i redditi, fu veramente una cosa seria. Ecco, la cosa di cui avremmo bisogno ora è qualcosa di simile. Ora, se non possiamo avere tanta progressività sul lato dell'imposta, come facciamo a far sì che chi ha di più contribuisca di più? È una maniera abbastanza semplice, diciamo, e cioè chiedendo a chi ha di più, non a tutti, a chi ha di più di pagarsi i servizi che gli offriamo. Io trovo del tutto, io insegno all'università, continuo ancora a non comprendere perché mai le stesse tasse, diciamo, non le stesse tasse universitari, perché una persona molto abbiente debba ricevere da tutti noi contribuenti un sussidio pari al 75% del costo dell'università del figlio. È una cosa che mi sfugge, perché una persona, una famiglia che guadagna 200 mila euro l'anno, gli si debbano dare il 75% del costo dell'università del figlio così, da parte di tutti. È una cosa che mi sembra francamente che non sta nel cielo e in terra, quindi non credo che non ci sarebbe niente di male, diciamo, a chiedergli di contribuire al costo di quel servizio. Lo stesso vale per la sanità e guardate che non sto, non ho in mente che come negli Stati Uniti si deve entrare al pronto soccorso con la carta di credo in bocca, non ho in mente questo. Ho in mente una cosa più banale, per essere precisi, una cosa che è molto simile a quello che c'era 30 anni fa, e cioè che a un certo punto, come dire, chi è più abbiente, versa un contributo al sistema sanitario nazionale pari a quello che potrebbe essere il costo di un'assicurazione. Tutto lì, niente di particolarmente rilevante, ma è la maniera con cui noi recuperiamo un po' di equità in un sistema che oggi l'ha persa del tutto. Oggi il sistema l'ha persa del tutto, se no non avremmo i dati che abbiamo, diciamo, sulla disuguaglianza, sulla povertà, se il sistema fiscale funzionasse, se l'assistenza funzionasse. Ecco, questo mi dà lo spunto per farle un'altra domanda. C'è, a fianco della flat tax, c'è una compatibilità con una sorta di reddito di cittadinanza, di sostegno, di contrasto alla povertà e da quanto ho capito nel suo libro lei lo struttura anche su base regionale, diverso a seconda delle aree geografiche del paese. Non solo c'è una compatibilità, io mi auguro vivissimamente che le due cose vengano pensate insieme. La cosa che io trovo molto preoccupante è quando sento parlare un ministro del reddito di cittadinanza, ora lo chiamiamo reddito di cittadinanza, è una misura di contrasto alla povertà, diciamo, come esistono in molti paesi, per bene? E altri ministri parlare invece della flat tax o di quello che sia. Le due cose vanno pensate insieme e sapete perché? Perché se non vengono pensate insieme succede quello che è accaduto per i famosi 80 euro. I famosi 80 euro sono stati restituiti da due milioni di persone perché avevano ecceduto, alcuni notate bene perché avevano ecceduto il limite di reddito superiore e hanno dovuto restituire. Altri, che è una cosa secondo me veramente, diciamo, che grida vendetta, perché hanno perso il lavoro nel frattempo e sono diventati troppo poveri per avere gli 80 euro. Troppo poveri per avere gli 80 euro. Questo è quando si studiano le cose a casaccio, quando si fanno le cose male, quando le politiche vengono fatte con superficialità, in maniera episodica, senza riflettere attentamente non solo su che cosa si vuole fare oggi, ma sugli effetti che ciò che facciamo oggi produrrà domani. Allora, da questo punto di vista troverei molto sensato che il reddito di cittadinanza, chiamiamolo come mi pare, reddito minimo, quello che volete, venga pensato insieme all'imposta personale perché risolverebbe un sacco di problemi. Pensate all'annosa vicenda degli incapienti, questa parola difficile da intuire ma che dice una cosa molto semplice, è troppo povero per avere le attenzioni del fisco. Ora, una persona troppo povera per avere l'attenzione del fisco può anche essere troppo povera per avere l'attenzione di qualunque cosa, anche se ne ha bisogno. Ecco, forse se gli dessimo un'occhiata, diciamo, anche a queste situazioni non sarebbe male. Senta, un altro punto, un'altra critica che l'è stata mossa è che, una critica che noi dovremmo essere sensibili, è che l'impianto della flat tax non è federalista, è molto accentrata l'imposta. Lei prevede anzi di spazzolare via tutte le tasse locali, mutasita, esclusa una che sulle attività produttive, se non sbaglio, la IRS. Sì. A parte che non ho capito che non dovrebbe entrare in vigore oggi per domani, ma è un processo e anche qui vorrei che ci spiegasse un po' cosa consiste questo processo. Però effettivamente per un Paese che per anni ha dibattuto lungamente sul federalismo fiscale, sulla capacità di spesa locale, sul controllo sugli amministratori locali, proprio su come spendono i soldi, poi alla fine questo sparisce. Eh no, questo capisco benissimo, è un tema rilevante. Anche perché abbiamo appena votato su questo. Sì, sì, no. Partiamo però un attimo prima, perché c'era questa questione, diciamo, delle aree geografiche rileva. Ho dimenticato di aggiungere una cosa molto importante. se come io immagino qualche cosa si farà per il reddito di cittadinanza, una delle questioni che vi dovrete immediatamente domandare è se il livello del trasferimento che verrà fissato per le persone in condizioni difficili sarà uguale per tutto il Paese o meno. Perché se si va a guardare a quale livello di reddito l'Istat oggi definisce una persona o una famiglia o una persona povera, si passa dai 580 euro circa delle aree metropolitane del mezzogiorno agli 820 euro circa delle aree metropolitane del centro-nord. Il motivo è semplice, perché il livello dei prezzi è diverso, diciamo, perché le condizioni di vita sono diverse, diciamo, quindi serve un po' meno, per così dire, nel mezzogiorno. Io sono meridionale, quindi mi do la zappa sui piedi, va bene? Serve un po' meno nel mezzogiorno per vivere condizioni, non date bene, minimali, diciamo, in cui ci si nutre, ci si copre, ci si riscalda, ma non più di tanto. Ora, se invece venisse stabilita un'unica cifra per tutto il Paese, è evidente che si avrebbe un trasferimento dal nord al sud. E secondo me sono esattamente queste le cose che poi, come dire, ancora una volta irritano profondamente. Perché stabilire 780 euro per tutti e poi far sì che una persona che vive a Milano, ed è povera, non abbia ciò che le serve, ripeto, per un'esistenza minimale e invece quegli stessi 780 euro consentono ad una persona che vive nel mezzogiorno di condurre l'esistenza minimale e di andare pure al cinema, forse non è esattamente il massimo dell'equità. Quindi questo è uno di quei casi in cui va affrontato il toro per le corna. Il toro per le corna è riconoscere che i livelli di prezzo nel Paese sono diversi e inutile che ci giriamo intorno. C'è una differenza di quasi il 20-30% per alcune voci di spesa nei livelli di prezzo ed è assurdo non tenerne conto. La questione del federalismo secondo me ha un'altra fonte o almeno nella proposta che è stata avanzata, che poi è oggetto del libro, si fa meno dell'IRAP ma non per una questione del federalismo, per una questione di intelligenza. È un'imposta che nessuno ha mai compreso e che io ho la netta sensazione che fosse incomprensibile e io credo che invece se si chiedono i soldi alla gente il minimo che si deve pretendere è che li si chieda per qualche cosa che è comprensibile. Quella roba lì non nessuno ha mai capita, io penso che non fosse comprensibile, quindi prima ce ne liberiamo dell'IRAP e meglio è. Invece la questione degli addizionali IRPEF regionali, comunali, allora, lì il problema è un altro. Qualcuno di voi si è mai accorto degli aumenti degli addizionali? Beh, sono mai. Certamente. Ma qualcuno di voi se ne è accorto perché l'ha letto sul giornale? No. E dove se ne è accorto? Come se ne è accorta lei? Ah, lo so, ma lo vede in busta paga? Ecco, se lei mi sa dire qual è la riga della busta paga in cui compare che c'è stato un aumento, io le veramente diciamo, come dire, no, lei confronta l'esito finale e giustamente trova di meno e si irrita, anche io diciamo. Ma sono le classiche imposte che dovrebbero essere le imposte della responsabilità, perché ci fanno vedere se il sindaco si è comportato bene, ha aumentato o non ha aumentato le imposte. Ma per la modalità con cui sono applicate è difficilissimo, se non dopo, capire che cosa sta succedendo. Quindi possiamo trovare una maniera più civile, diciamo, con cui paghiamo quello che dobbiamo giustamente pagare al Comune per i servizi che il Comune ci rende, ma per quelli, non per altri. E facciamolo in una maniera leggermente diversa, cioè leghiamo ciò che il Comune ci chiede alla qualità del servizio che ci rende. Anche queste sono cose, diciamo, che la probabilità che hanno di diventare legge è molto sotto lo zero, però vorrei che vi rimanesse il messaggio, cioè che è possibile, non sono cose impossibili. Allora, vi faccio un esempio. Noi paghiamo la stessa tassa sui rifiuti, sia che ci troviamo a Pavia, sia che ci troviamo, non mi ricordo bene, credo che fosse Cosenza l'esempio. A Cosenza il volume di rifiuti mandato in discarica, solitamente il volume di rifiuti mandato in discarica è l'esempio, diciamo, della inefficienza comunale, no? Non si sa che fare, si butta in discarica, va bene? E dieci volte, se lo ricordo bene, è addirittura 15 volte superiore a quella a Pavia. Ora, io perché devo pagare la tassa sui rifiuti nella stessa maniera a Crotone o Cosenza che sia e a Pavia? Mi è difficile capirlo, non comprendo. È come se io, come dire, due ristoranti, uno mi avvelena, l'altro mi fa mangiare molto bene, mi chiedono lo stesso e io non dico niente, quantomeno mi trasferisco. Allora, da questo punto di vista penso che si debba, più che tornare indietro sul federalismo, perché al contrario, diciamo, io ho un federalismo che associasse alle maggiori competenze, maggiori entrate responsabili e individuabili, trasparenti, sarei molto lieto di vederlo, ma questo non è un sistema trasparente, ma né trasparente né che ci consente di assegnare le responsabilità. E quindi così, secondo me, tanto bene non va. Sono anch'io convinto che un progetto di riforma di tal fatta, diciamo, abbia poca strada in questo momento. Però, secondo me, e qui tornerai sui dati macro del Paese, secondo me questa è l'unica possibilità che c'è per l'Italia di riprendere la strada della crescita. Infatti, lei lo scrive anche, ma di avanzi primari, a parte che gli avanzi primari stanno progressivamente riducendosi fino a scomparire, probabilmente quest'anno scompariranno anche, di avanzi primari non è che si sia aggredito il debito pubblico e i dati sulla produttività e sul rapporto, il confronto tra Italia e altri Paesi sono drammatici, quindi qualcosa bisogna inventarsi in questo Paese. È il fisco il primo snodo? Il fisco è il primo snodo, però questo è un punto, è la discussione non fatta in questi mesi, perché alla fine della storia, diciamo, io vorrei domani una flat tax ben fatta, la vuole anche qualcun altro in giro per il Paese, no? Ho la netta sensazione... Torniamo indietro. Allora, ho l'impressione che la vogliamo per motivi diversi. Io vorrei una flat tax perché secondo me la flat tax è la strada migliore per avere un fisco più leggero e ne abbiamo disperatamente bisogno, diciamo, siamo 4 punti percentuali sopra la media europea, non voglio nulla di particolare, ma se arrivassimo alla media europea già sarebbe un segnale, diciamo, ragionevole, va bene, nei confronti dei contribuenti, quindi un fisco più leggero, una pubblica amministrazione, diciamo, un po' più funzionante, che fa le cose per cui vogliamo che una pubblica amministrazione ci sia e non faccia tutto il resto, diciamo, e lo faccia in maniera, diciamo, anche quella, diciamo, meno pesante di quanto oggi non sia. Altri invece vedono nella flat tax, una cosa diversa, vedono invece nella flat tax la modalità per fare, spesa ulteriore a debito. Ora, se la spesa ulteriore a debito fosse una modalità per crescere, l'Italia sarebbe molto oltre la Corea come tassi di crescita, perché noi, diciamo, abbiamo avuto spesa a debito in questo Paese da 30-40 anni ininterrottamente, avremmo dovuto registrare tassi di crescita mostruosi e noi li abbiamo avuti, quindi evidentemente l'idea di spendere a debito non è poi un'idea così brillante se l'obiettivo è la crescita. E d'altra parte, io capisco che questo ragionamento è corretto quando si è in una fase della congiuntura economica difficile e si vuole sostenere l'economia, ma guardate che noi ora stiamo, sia pure poco, l'1-1,5%, ed è pure tanto, diciamo, ma stiamo crescendo così come l'economia italiana potrebbe, a volte anche un po' di più di come potrebbe. Il problema vero è che se uno va a guardare le possibilità dell'economia italiana sono ridottissime oggi, sono la metà di quella degli altri Paesi europei e il problema sta nelle possibilità. Vi cito un dato per chiarire proprio che cosa voglio segnalarvi. A qualcuno di voi avrà notato, era agosto, quindi forse qualcuno è scappato perché sotto l'ombrellone del giornale si evita di leggerlo, anche fuori dall'ombrellone della verità, ma c'era un sondaggio dell'SVG in cui si diceva che la cosa più desiderata dagli italiani è l'impiego pubblico, ve lo ricordate? Sarà stato metà agosto, a larga maggioranza, che cosa vorreste fare? L'impiego pubblico. Un Paese che ha questo desiderio è un Paese che difficilmente cresce, lasciatemelo dire, un Paese in cui nessuno vuole fare l'imprenditore, un Paese in cui nessuno vuole rischiare, un Paese in cui l'obiettivo di fondo, io sono un funzionario pubblico essendo un professore universitario, quindi anche qua non ho motivo per prendermela con me stesso, ma un Paese in cui l'obiettivo di fondo è fondamentalmente un impiego in cui non c'è rischio, è un Paese che crescere lo farà con molta difficoltà. E il problema è quello, incidere su quella mentalità, su quella cultura è complicato, richiede un sacco di tempo e non si risolve spendendo un po' di soldi, questo è il problema vero, non si risolve con un'azione molto lenta che passa per la scuola, che passa anche per l'esempio della politica che sarebbe la cosa migliore e così via, ma è una cosa lenta, difficile, complicata, che porta tempo, nel frattempo però siccome l'altro corno del problema si chiama debito pubblico, quello lo dobbiamo affrontare perché le due cose insieme non stanno bene. Ci sono Paesi che crescono molto e hanno debiti pubblici molto elevati, ma se li possono permettere perché crescono molto. Ci sono Paesi invece che crescono poco ma resistono perché hanno debiti pubblici molto ridotti. Quello che non si tiene è una situazione come la nostra in cui il Paese cresce poco perché non ha dentro di sé, ha perso l'energia per così dire e dall'altro lato il debito va fin sopra la cima dei capelli. Le due cose insieme sono la premessa per un problema serio. Ma il Paese cresce poco perché abbiamo una curva demografica per cui siamo tutti vecchi oppure perché abbiamo un fisco incapace di favorire le aggregazioni di imprese, di favorire start-up, un fisco premiale verso chi cerca di fare sviluppo. Il Paese cresce poco innanzitutto perché c'è una questione demografica seria e questo è verissimo. Però a parte questo, poi l'elenco è lunghissimo e credo che ognuno di voi lo conosca. Il Paese cresce poco perché si porta sulle spalle una inefficienza di fondo della pubblica amministrazione che è visibile ad ognuno di noi quando entra in un ufficio pubblico. In un ufficio pubblico si entra e la scritta sopra, grosso, enorme, che si vede è che qui non si prendono responsabilità. Questo è quello che si nota. È evidente che il risultato è che il Paese tanto tanto non cammina in queste condizioni. Ovviamente se la pubblica amministrazione non aiuta e non fa quello che di solito dovrebbe fare. Il Paese cresce poco perché il fisco, che è un pezzo della pubblica amministrazione, è quello che è. È inefficiente anche lui ma soprattutto è stato ed è tuttora purtroppo secondo me un fisco molto penitenziale. Non so come altro spiegarlo e come altro definirlo. Ma come stiamo vedendo dai risultati il fisco penitenziale non ci ha nemmeno fatto recuperare l'evasione. Alla fine i numeri che ogni anno ci vengono sbandierati, circa la lotta all'evasione, 10 miliardi, quindi sapete che cosa sono? Sono ciò che viene recuperato da quei contribuenti che scrivono 7 invece di 1, che se sono sbagliati, che volevano scrivere, hanno scritto male. Da quei contribuenti diciamo che hanno saltato una scadenza perché non se la sono ricordata. Non sono quelli gli evasori. Se uno va a vedere che cosa viene recuperato davvero dagli evasori, siamo ancora a cose veramente molto molto piccole, diciamo molto molto ridotte. Perché? Perché l'atteggiamento penitenziale non porta molto lontano. diciamo. Negli altri paesi non è questa. Negli altri paesi il fisco è molto duro nei confronti di chi viene colto sul fatto. Ma non è nessuno degli altri paesi che io conosca parte dall'idea che io ho sentito esprimere in pubblico per cui il paese è un paese tutto di evasori. E quindi tutti vanno perseguiti a prescindere. Ma è penitenziale proprio nel senso cattolico. Fai penitenza e poi ti condono, ti perdono. Appunto, esattamente. E poi ti perdono. Di condono in condono si fa un po' di cassa. Senta, a proposito di cassa, quanto costerebbe la flat tax? Questo dipende da come la si fa. Nel caso della proposta che abbiamo fatto noi con 27-28 miliardi, diciamo, la cosa si affronta e si risolve nel giro di tre anni, diciamo, non immediatamente. Certo, se si vuole portare l'aliquota al 15, il costo è molto superiore, è inutile prendersi in giro. 27 miliardi con una sana politica di spending review sarebbe facilmente... Sì, è fattibile. Ma in Italia non esiste la politica né sana né non sana di spending review. No, lo so, però secondo me, diciamo, allora, questa è una cosa che riguarda proprio i cittadini in quanto tali. I cittadini devono sapere che alcune cose sono possibili. Non devono pensare che ciò che hanno davanti come offerta politica esaurisca tutte le possibilità. A volte non è così. A volte ciò che si ha davanti non esaurisce tutte le possibilità. A volte ci sono cose che potrebbero essere fatte nell'interesse dei cittadini che non vengono fatte, ma il cittadino lo deve sapere. Ecco, a questo proposito vorrei che lei mi spiegasse, ci spiegasse la differenza tra la proposta di Flaktax, che ha avanzato il centrodestra, perché il Movimento 5 Stelle non ne aveva parlato in campagna elettorale. È quella che propone l'Istituto Bruno Leoni, che lei ha presieduto, che è un think tank, un centro di ricerca che prospetta soluzioni economiche, politiche, un centro di ricerca senza fine di lucro. Ecco, vorrei che focalizzasse bene le differenze tra lì. E poi, un'altra cosina, perché la sinistra non è riuscita a far proprio la sua proposta e continua a sciropparci questo modello redditi di 120 pagine, dicendo che forse è la cosa più bella che c'è progressiva? Dunque, la prima parte, la risposta è molto complicata, perché se avessimo una proposta dall'altro lato, altrettanto dettagliata, sarebbe facile fare le comparazioni. Però qui in realtà che cosa sappiamo della proposta governativa? Che ci saranno una o due aliquote, di cui potenzialmente una sarebbe il 15%, e che poi ci sarebbe una strana modalità di fare quella deduzione base per tutti. Dico strana perché sarebbe una certa somma moltiplicata per il numero delle persone e della famiglia, senza però tenere conto di una serie di questioni di cui, per le quali ora non vi annoio. Ma sappiamo solo questo. In realtà, diciamo, non è stato mai fatto un conto preciso di quanto può costare, non è mai stato fatto un conto preciso di tutte le conseguenze e soprattutto non è mai stato fatto un conto preciso delle implicazioni. Vi faccio un esempio per essere chiaro. Circa un mese fa il Ministro dell'Economia, parlando della flat tax, ha detto che naturalmente elimineremo gli 80 euro. Uno dei due viceministri, a distanza di un nanosecondo, ha detto che non se ne parla proprio, la flat tax si aggiunge. Ne deduco che il viceministro che ha detto questa cosa qua non si è informato, mettiamola così, non fatemela dire in questa maniera. Perché se uno riforma il sistema fiscale, non è che aggiunge una riforma, la riforma, lo dice la parola stessa, serve a rifare una cosa, non ad aggiungere. È evidente che se io riscrivo le regole del sistema fiscale, gli 80 euro non esistono più, ma non perché sono gli 80 euro, non esistono più nemmeno le aliquote che esistono oggi, non esistono più nemmeno gli scaglioni che esistono oggi, va da sé, insomma, non sono cose complicate. Invece la risposta però del viceministro è interessante perché vi fa capire una cosa, che come posso dire si ha una evidente resistenza a chiarire che una riforma, come sempre, implica alcune cose che per tutti sono positive e implica altre cose che per altri non sono positive. Se io levo il bonus giardini c'è qualcuno che si arrabbierà perché non può mettere, diciamo, il ficus nano sulla sua terrazza. È pazienza, bisognerà pur dirglielo. Qualcuno glielo deve pur dire, che non è una cosa grave, diciamo, d'accordo? Una cosa di questo genere. Ecco, in questa maniera però le riforme, quelle robuste, non si fanno perché se si ha difficoltà a toccare qualunque equilibrio si finisce solo per fare l'errore degli 80 euro, aggiungere qualche cosa ad un sistema che funziona male, con il risultato che poi il sistema continua a funzionare male. Perché a sinistra vanno dove vanno? E bisognerebbe domandargli a loro, supponendo anche che sappiano dove vanno. Cosa che non sempre mi è proprio del tutto chiara. La mia sensazione è che a sinistra ci sia un problema di fondo. Ed è la difficoltà a leggere a volte le cose con occhi nuovi. Non so come dire, diciamo. Posso anche leggere? Questo non voglio spingermi troppo in là. Questa difficoltà io credo che derivi da un problema proprio veramente serio. A volte è una situazione da girone dantesco, se così posso dire. Perché è evidente che c'è un problema distributivo. In Italia forse meno che altrove, ma è abbastanza evidente. Quando si hanno 5 milioni di poveri assoluti c'è un problema distributivo serio al quale bisogna dare una risposta. Per creare le risorse per risolvere il problema distributivo, perché c'è bisogno di soldi per risolvere un problema distributivo, bisognerebbe avere però la possibilità di far sì che il sistema, il paese, l'economia produca qualcosa in più. E a sinistra mi sembrano del tutto incapaci di stabilire o di indicare le strade perché quel di più si produca. La sinistra è stata sempre abitata a trovare le risorse che gli servivano per risolvere i problemi distributivi nella spesa pubblica. E questo è accaduto per decenni. Oggi la spesa pubblica non è più una risorsa possibile a cui è a tingere e quindi bisognerebbe far sì che fosse la parte privata dell'economia a produrre quel di più che poi serve attraverso anche le tasse a darci le risorse per risolvere un problema distributivo. Ma è, ripeto, un sistema di giro in edantesco perché uno individua il problema ma è nella condizione oggettiva della impossibilità a risolverlo perché la sua cultura glielo impedisce. È triste, no? Senta, a proposito di trovare le risorse, se il nostro debito è sostenibile, se c'è un avanzo primario, lei calcola del 4% all'anno e abbiamo invece un avanzo primario che è nettamente inferiore, prima o poi avremo delle difficoltà nel sostenere questo debito. nel ripagarlo. La spesa per interessi che è diminuita grazie alla manovra del Presidente della BC e Draghi del quantitative easing tornerà a salire. C'è o non c'è il rischio che l'Italia possa uscire o meglio possa uscire, possa essere sbattuta fuori dal sistema europeo? Diciamola tutta perché qui la responsabilità è veramente temo, 360 gradi. Allora è verissimo che la BCA ci ha, non solo a noi ma soprattutto a noi, ci ha dato il tempo per fare le cose che dovevamo fare. C'è la data nel senso che da quando l'euro nasce noi risparmiamo di interessi circa 30 miliardi l'anno. In questi anni forse anche di più, ma circa 30 miliardi l'anno. Se avessimo preso questi 30 miliardi e li avessimo messi da parte a riduzione del debito, oggi avremmo un debito inferiore al 100% e credo che faremmo veramente le feste. va bene? In realtà ce li siamo giocati e ce li siamo spesi in tutte le maniere possibili e immaginabili. Il problema vero è che quella strategia che la BCA ha avviato giustamente dopo la crisi del 2008, ora si esaurisce, si è esaurita e si sta per esaurire. E ora si vedono le conseguenze, nel senso che nel momento in cui negli Stati Uniti, in Europa i tassi di interesse ricominciano a crescere, non solo costa di più onorare il nostro debito, ma succede un'altra cosa, seria. In questi anni in cui i tassi di interesse erano bassissimi nei paesi occidentali, gli investitori sono andati in giro per il mondo a cercarsi cose che rendessero un po' di più, perché poi alla fine della storia non pensate che gli investitori siano chissà che cosa, è gente che per esempio deve gestire dei patrimoni per pagare le pensioni norvegesi, canadesi, neozelandesi o quello che volete. Quindi cerca da qualche parte rendimenti maggiori. Li sono andati a trovare dove? Li sono andati a trovare in Turchia, li sono andati a trovare in Argentina, li sono venuti a trovare pure da noi, perché rendeva i titoli italiani un po' più di altri. Ora che invece l'America torna ad avere tassi di interesse più elevati e forse fra un po' lo stesso accadrà anche altrove in Europa, a quel punto quegli stessi investitori torneranno ad acquistare titoli che rendono un po' di più e sono certamente un po' più sicuri, il che significa che hanno già lasciato la Turchia, hanno già lasciato l'Argentina, probabilmente lasceranno anche l'Italia in tutto o in parte li stanno già lasciando. Quindi abbiamo avuto a disposizione almeno una decina di anni di tempo, forse anche di più diciamo, per fare quello che dovevamo fare non l'abbiamo fatto e ora siamo esposti, per cui la prudenza ora secondo me deve essere massima, perché se no ci facciamo veramente male. Sì, ma non mi sembra che il nuovo governo abbia ricette, se la sinistra effettivamente brancola nel buio senza avere ben che minima idea di una meta, ma non mi sembra che le ricette che vengono fuori dai matri a pensare e dagli economisti della Lega o delle Cinque Stelle siano diversi da un kinesismo o dai miei altri. Allora, più che da un kinesismo posso dire, secondo me diciamo, allora, ci sono due cose su cui l'epoca del cambiamento, come la definiamo questa, in realtà presenta soprattutto continuità. Alla fine che cosa abbiamo fatto negli ultimi 15-20 anni? Non abbiamo fatto troppi danni, abbiamo cercato di non fare troppi danni, abbiamo cercato di mettere le pezze qua e là perché troppi danni non avvenissero. Ecco, la mia sensazione è che quando arriveremo alla legge di bilancio, nella migliore delle ipotesi accadrà questo, cioè una cosa che non fa troppi danni, probabilmente, ma così non andiamo lontanissimo, perché in realtà di cose coraggiose ne avremmo bisogno. Vorrei essere chiaro su questo punto. Io quando dico che bisogna essere prudenti non dico che non bisogna fare, al contrario, bisognerebbe fare è tanto e anche in maniera molto incisiva, ma sapendo che le due cose sulle quali il Paese ha un bisogno di cambiamento assoluto sono, uno, la finanza pubblica, appunto, un fisco più leggero e una pubblica amministrazione più efficiente, diciamo, due, l'altra cosa sulla quale veramente ormai è anche inutile parlare è il mezzogiorno, ma anche per il mezzogiorno ci avviamo a fare quello che abbiamo fatto. Se il Presidente del Consiglio mi dice che vuole inaugurare una stagione di investimenti pubblici nel mezzogiorno, io gli dico che non ha bisogno di inaugurarla, è stata inaugurata decenni fa, diciamo, ammesso che sia stata fatta e non ha assortito grandi risultati. Il motivo, diciamo, secondo me ha molto a che fare, non so se qualcuno c'era, con quello che si discuteva nell'altra, alla presentazione del libro, diciamo, sulla criminalità organizzata, perché è un problema, diciamo, che ha a che fare anche con quello, purtroppo. Però ecco, qui il cambiamento si dovrebbe veramente vedere su questi due fronti e invece temo che proprio su questi due fronti il segnale che stiamo, che staremmo per dare, o che il Governo starebbe per dare, sia quello di una massima continuità. Sì, ma la massima continuità non è sufficiente a evitare i rischi di uscita o di espulsione dall'euro. Che cosa potrebbe succedere se l'Italia... La massima continuità è sufficiente a farci rimanere così come stiamo, e cioè a sfittici... Per quanti anni? Abbiamo un trend di declino... Basta nulla, diciamo, in queste condizioni perché la situazione precipiti. Che significa se la situazione precipita? Beh, insomma, significa una cosa molto semplice, credo. E cioè, lo spauracchio dell'Unione Europea, vi prego di credermi, lo è solo in parte, diciamo, perché l'Unione Europea per quante decisioni possa prendere le prende sempre ex post e sono poi decisioni, appunto, che hanno effetto molto più in là nel tempo. Quindi il vero spauracchio, appunto, è quello che vi dicevo prima, cioè che gli investitori in giro per il mondo decidano che non possono più fidarsi dei titoli di Stato italiani e decidono di venderli. A quel punto, quello che accade, molto banalmente, diciamo, è che per collocare, anzi, che si va all'asta in cui si cerca di collocare dei titoli di Stato italiani e non si trova nessuno che li compra. Se questo accadesse, è evidente che i tassi di interesse salgono enormemente, i prezzi dei titoli italiani scendono a precipizio e siccome negli ultimi anni, anche qua con scarsa lungimiranza, mi permetto di dire, abbiamo fatto in maniera che le banche italiane si imbottissero di titoli di Stato italiani, i primi a crollare sono le banche. Voi guardate che cosa accade allo spread e guardate che cosa accade alle banche in borsa. Quando sale lo spread, le azioni delle banche precipitano. Perché? Perché sono la stessa cosa. Perché il rischio percepito da parte dell'investitore è lo stesso. Comprare un titolo di Stato, comprare il titolo della banca XY, che però in portafoglio è piena i titoli di Stato. È identico. E quindi le due cose si muovono in maniera speculare. Ma questo significa che se un problema c'è, comincia di là. Ed è un problema serio allora. L'ultima domanda gliela faccio sulla classe dirigente. Perché poi è la chiusura del libro. perché la selezione e la formazione della classe dirigente del paese sono un problema che non mi sembra... forse l'Italia è nel gruppone perché non mi sembra che anche in altri stati, forse in Francia meno, ma in altri stati la selezione della classe dirigente sia tanto migliore della nostra. È un problema di questo periodo. Lei propone una sorta di selezione per sorteggio? No, no, io non propongo. Io dico, trovavo molto divertente che Grillo qualche settimana fa ha proposto che il Senato venisse eletto per sorteggio. E naturalmente quello che mi veniva fatto di rispondere è che già facciamo così. Non c'è bisogno di inventarsi niente. Già la nostra classe dirigente è sostanzialmente sorteggiata. Nel senso che capita di assistere, diciamo, come posso dire, diciamo... Non riesco a dirlo, meglio che citando un pezzettino di un articolo di Cazzullo di Luglio, non mi ricordo di quando era, diciamo, il quale parlava di questa straordinaria carriera di questo politico di questi tempi i quali diceva un giorno Tizio e Caio, non importa chi, lo videro in televisione e decisero di candidarlo. Ecco, che cosa c'è di più, diciamo, di elezione per sorteggio se non questa? No? Un caso di questo genere. La vera differenza, sapete qual è? La vera differenza è che di elezioni per sorteggio ce ne sono state nella storia. Cioè, in Italia i comuni, molti comuni, eleggevano, diciamo, per sorteggio assolutamente, estraevano a sorte i loro rappresentanti o coloro i quali gestivano il comune senza andare indietro ad Atene e così via. Con l'avvertenza però che l'estrazione a sorte avveniva all'interno di un bacino di persone predeterminato. Cioè, non si prendeva l'intera popolazione e poi si estraeva a sorte, no? Ma ci si accertava che, insomma, male male che va, non deve fare troppi danni, no? E se poi si trattava invece di cariche ad alto contenuto tecnico, allora il sorteggio non era ammesso perché il capo militare ad Atene come a Firenze non era estratto a sorte perché poteva capitare un pacifista e sarebbe stato un disastro, ovviamente, come potete immaginare, no? Quindi era scelto in tutt'altra maniera. Invece noi abbiamo saltato tutti questi noiosi passaggi intermedi, no? Ed estraiamo a sorte direttamente così, diciamo, come ci fa più piacere. È una modalità, anche un esperimento senza precedenti. Speriamo che vada bene. Che vi devo dire, diciamo, a volte quando apro la televisione o quando mi capita di guardare qualche cosa in televisione ho la netta sensazione che forse l'idea di un attimo, diciamo, di contenere la platea degli elegibili non sia così sbagliata, però... Grazie. Grazie a te, grazie a voi.